Tornano a protestare i 28 lavoratori della Tecra, l'azienda che gestisce a Gela il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che le aveva assunti con contratto a termine sotto la campagna elettorale per poi licenziarli alla scadenza dei tre mesi convenuti. Ciò nonostante avevano ottenuto la promessa dalle parti interessate che dal primo marzo, cioè dire da ieri, sarebbero tornati a lavorare. Ed invece ancora un nulla di fatto. Ad oggi gli operai non hanno ottenuto nessuna lettera di assunzione, da questa mattina hanno deciso di presidiare l'area antistante e il piazzale in cui è situata la Tecra, lungo la Gela Catania, a pochi chilometri dal centro abitato. Da un accordo che è stato siglato il giorno 8 febbraio, si è scritto e è stato confermato sia da Balistere che dal sindaco messinese che noi dovevamo andare al lavoro il primo marzo. Per quanto riguarda il sindaco, per il sindaco già noi dovevamo essere al lavoro, perché siamo stati sabato a parlare con lui e l'ha accettato questa cosa. Ora, la cosa strana è che ogni volta ci fanno promesse il giorno 16 gennaio, il 27 febbraio, gennaio, ora siamo a marzo, però all'ultimo momento si ingeppa sempre qualcosa e non ci porta a nulla. È da nove mesi che siamo fuori, quindi io non lo so che si mettano d'accordo, che trovano un punto, non lo so. L'importante è che quello che almeno è scritto, perché è scritto, hanno preso un impegno con i lavoratori, quindi chiediamo che noi veniamo riassunti subito al lavoro. E quando voi ieri siete arrivati qui davanti ai cancellati della Tecra, cosa vi è stato detto? Siamo stati buttati fuori perché giustamente non essendo lavoratori, ci hanno buttato fuori perché se qualcuno si fa male dicono uscite fuori dal cancello, come è giusto che sia, penso. Noi siamo scesi qua al cantiere e ci hanno risposto direttamente che qua al cantiere ancora non hanno avuto nessuna comunicazione, quindi ad oggi noi stiamo qua a protestare perché siamo ancora fuori e non a lavorare. Chiesto l'intervento immediato delle organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali si sono mosse, non è che possiamo dire che non si sono mosse, però non vediamo niente di concreto praticamente. Loro si sono mosse, però ad oggi quello che si dice non viene fatto. Tra l'altro nell'accordo, nella riunione che è stata fatta per il nostro rientro, noi non è presente sia la Cicela che la CGL, quindi anche loro hanno firmato, quindi devono vigilare. Noi ci stiamo seguendo il Saverna della Fitticela che sta facendo quello che deve fare. Da parte c'è anche Scicolone che si sta interessando per questa situazione, però che si muovono, che succeda qualcosa, non lo so, ci stiamo aspettando.